Saranno discussi il 17 giugno prossimo al Tribunale di Patti i ricorsi formulati con la modalità dell'azione popolare per discutere su presunte situazioni di ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità per il sindaco di Militello Rosmarino Salvatore Riotta e del vice sindaco Antonino Tomasi, dimessosi di recente dalla carica di consigliere comunale permettendo l'ingresso in aula di Benedetto Artino e Naria, anche egli già assessore. Sono diverse le vicende che caratterizzano i due amministratori del centro montano. Per il sindaco Riotta c'è un'ordinanza di demolizione messa da responsabile dell'area tecnica comunale per un'abitazione di proprietà ricevuta in eredità dal defunto padre nel 2013. L'esistenza di questo contenzioso, secondo il ricorso, determinerebbe una condizione di incompatibilità di Riotta con la carica ricoperta. Per il vice sindaco Antonino Tomasi la questione riguarda la titolarità di un laboratorio di analisi chimiche convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Questa circostanza farebbe emergere l'inelegibilità, secondo la legge regionale, relativa ai titolari di studi medici e laboratori sanitari convenzionati nel territorio dell'Asp in cui opera la stessa struttura. In entrambi i ricorsi si chiede che venga dichiarata la decadenza dei due amministratori.